Spingere Izzo, poi Nandez, rete! Al volo! Dalla distanza Nandez trova il gol, come all'andata, due reti in campionato per l'ex Boca Junior, ha trovato un gran gol dalla distanza. Anche perché Nandez va in profondità, poi in mezzo Simeone, rete! Fuori gioco. Per il Cagliari, Anzaldi rientra subito, cross sul secondo palo, la Aina Bremer, la girata rete! Rientra in partita il Torino con la girata sotto posto. È partito quando è uscito Mattiello, rete! Belotti! Direttamente al volo da calcio. Del Torino, Giopedro, 16 gol in campionato. Va proprio lui sul dischetto, un passo a sinistra, poi si ferma alla fine carica, spiazzato Sirigu. Il gol, il gol di Giopedro per il 4 a 2 del Cagliari sul Torino.